Sicuramente abbiamo analizzato molto quei 30 minuti di parità numerica dove i nostri avversari hanno fatto sicuramente una buona prestazione e quindi abbiamo lavorato su quello anche se non siamo così convinti che domani sarà la stessa partita o lo stesso avversario. Nulla perché attorno a noi ho visto tanta serenità, tanta tranquillità, quindi noi ci siamo preparati con tanta concentrazione perché sappiamo che è un obiettivo importante e sappiamo che vogliamo passare questo turno. No, assolutamente non c'è questo rischio, sappiamo che ci siamo presi un discreto vantaggio ma sappiamo che il turno va conquistato domani con un'altra prestazione di attenzione, di determinazione e di qualità perché come ha detto Fic, i nostri avversari sanno giocare con energia, sanno giocare con intensità, sanno attaccare sono abitati ad attaccare tanto con tanti giocatori ma questo significherà anche forse trovare più spazi. Non c'è una partita di riferimento, non possiamo fare coppia in colla e prendere un'altra prestazione sappiamo però che tipo di prestazione dobbiamo fare domani, dobbiamo essere una squadra che attacca bene, che difende bene, che sta dentro la partita, che sa approfittare di ogni situazione per prendersi dei vantaggi rispetto ai nostri avversari. Prego.